Buonasera, io sono un ammiratore di Michele Serra e non mi perdo nessuna delle sue amache. Conosco Michele Serra? No, oddio, penso di sì, chi è la Michele Serra? Mi ricordo la lettura del suo viaggio per l'Italia in Panda che era una cosa veramente spassosissima. Ma può darsi che lo conosco di vista? Potrebbe essere Gino e Michele Serra. Dovrebbe pubblicare un nuovo elenco di notizie vere che sembrano tutte false, perché adesso le notizie vere sembrano tutte false. Ho fatto una bella figura di merda con questa, chi è Michele Serra? Arrivederci.